I finanzieri del comando provinciale di Napoli nel corso della costante attività di controllo economico del territorio hanno arrestato in tre distinti interventi quattro responsabili per resistenza pubblico ufficiale e contrabbando di sigarette. In particolare nel corso di una prima operazione i baschi verdi del gruppo pronto impiego hanno arrestato un ventunenne che aveva tentato di fuggire con la propria autovettura all'alto dei finanzieri. Invece di rispettare il segnale dei militari il veicolo ha accelerato e proseguito la propria rocambolesca corsa mettendo in pericolo gli stessi finanzieri nonché gli altri autisti e pedoni cercando in modo spericolato di darsi alla fuga con l'obiettivo di seminare la pattuglia che in stretto raccordo con la sala operativa ha subito iniziato l'inseguimento. Il percorso della vettura condotta a velocità eccessiva e incurante della sicurezza stradale ha interessato la zona del rione Traiano e i quartieri Soccava e fuori grotta del capologo dello stagio Diego Armando Maradona finché il fuggitivo. Dopo aver tamponato un'altra auto è stato raggiunto dai militari. Il giovane guidatore è stato arrestato per esistenza pubblico ufficiale oltre che segnato al prefetto per possesso di alcune decine di grammi di hashish e per violazione al collice della strada. Il mezzo sul quale viaggiava è stato sequestrato poiché tra l'altro già sottoposto a fermo amministrativo e sprovvisto di copertura assicurativa. Nel corso di un secondo intervento le fiamme gialle del gruppo di Nola hanno tratto in arresto ad Ottaviano un 62N ed un 32N sorpresi con un veicolo commerciale a scaricare in garage 660 kg di sigarette. Infine il gruppo di Torre Annunziata ha tratto in arresto a Boscoreale un 46N e peraltro già arrestato nel mese di aprile ad Ercolano per fatti analoghi, mentre trasportava nel vano del suo autocarro circa 50 kg di sigarette di contrabbando.